Buongiorno, sono Bullo Stefania, presidente di Avapo Mestre, un'associazione di volontariato che eroga servizi a favore delle persone ammalate di tumore. Desidero segnalare che spesso nostri sostenitori vengono contattati, soprattutto telefonicamente, per versare donazioni all'associazione tramite raccolte porta a porta. Sottolineo che questa non è la modalità seguita da Avapo Mestre. L'unico modo per sostenere l'associazione è effettuare un bonifico bancario su un conto corrente intestato ad Avapo Mestre oppure un versamento su conto corrente postale oppure raggiungendo la nostra sede che è sita in Viale Garibaldi 56 a Mestre. Nessuno è autorizzato ad effettuare raccolta di soldi porta a porta. Grazie.